Ciao ragazzi, benvenuti su Cassiub Drums. Il video di oggi vuole essere un video per batteristi, ma non solo, perché è un video anche per tutte le mamme, nonne, cugine, zie, conoscenti, eccetera, di un batterista. Questo è un video sui regali per un batterista, che possono essere regali di Natale, perché in questo momento ci troviamo alle porte del Natale, quindi magari c'è ancora qualcosina da comprare all'ultimo per il vostro amico, parente, eccetera, batterista, oppure può essere un video generale per fare un regalo a un batterista o per farvi un regalo voi che magari, che guardate questo video, siete batteristi. Quindi, sono andato sul sito di strumentimusicali.net e ho scelto un po' di cosette, ho già aperto il mio pacchetto. Qui dentro ci sono un bel po' di regali appositi per i batteristi e anche un po' di regali per i musicisti in generale, ma che per i batteristi vanno bene. E vi farò vedere un po' di cose qui, poi passeremo sul sito, vi farò vedere un po' di cose dal sito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, intanto, grazie mille strumentimusicali.net per avermi mandato tutta questa robetta perfetta appunto per i batteristi, ma cominciamo subito. Cominciamo però prima con la sigla. Nel video di oggi voglio andare a lavorare, diciamo, per fasce, per fasce di prezzo, perché ovviamente non tutti hanno la possibilità di spendere dei milioni per i batteristi, perché tante volte le cose per i batteristi, i piatti rullanti, eccetera, sono belli costosi. Quindi, oggi voglio darvi un po' di fasce di prezzo, dalle cose più economiche, cose medioeconomiche, cose un po' più costose, in modo tale da poter accontentare tutti. Partiamo, li vedo già qui, da questi che sono fighissimi, ne manca uno, eccolo qui. Allora, questi qua, ragazzi, sono, questo lo appoggio un attimo di qua, dei portachiavi che vanno bene per i musicisti e i batteristi in generale, perché, guardate, allora, portachiavi con il rullante, portachiavi con la chitarra elettrica, portachiavi con le bacchette, portachiavi con le mani che fanno le corninne, eccole qua, o portachiavi con un jack della Fender. Quindi, questi, in realtà, sono solo alcuni esempi di portachiavi che potete trovare su strumentimusicali.net, quindi, quello che vi lascerò in descrizione saranno, ovviamente, tutti i prodotti di oggi, ma vi lascerò tutte le possibilità di portachiavi che avete, perché sono 20, 30 portachiavi diversi. Quindi, andate sul sito, scegliete quello che volete, e questo può essere un regalo da farvi o da fare a qualcuno super economico, che, comunque, fa la sua figura, perché non è male. Voi avete le chiavi di casa e vi mettete questo portachiavi, ad esempio, con le bacchette, che forse a me è quello che piace di più, tra tutti, e quindi, boh, avete le vostre bacchettine, è carino, si vede che siete batteristi, ma, se volete fare un regalo, andare un pochettino più su, diciamo, allora, no, questo no, ma avete la chiave, eh, allora, raga, questo è un must, questo io lo metto sempre tra i regali, perché è una delle cose che più vorrei ricevere se fossi un batterista. Aspettate un attimo, che qui aprire è un po' difficile. Ragazzi, la chiavetta di Tama. Cioè, questa qua, in pratica, è il coltellino svizzero dei batteristi, che non riesco ad aprire. Qua, praticamente, avete una specie di coltellino svizzero, che è una chiavetta, perché qui è chiavetta, ma poi avete un sacco di possibilità, come potete vedere. Allora, di qua avete tutte le brugoline che servono, ad esempio, per il pedale, di qui avete tutte le varie chiavette, eh, chiavette di batterie nuove, chiavette di batterie più antiche, queste mi hanno detto che è una specie di chiavetta per delle batterie un po' più vecchie. Qui avete un cacciavite, eh, qui avete un'altra chiavetta, e questa chiavetta è comodissima, perché così avete la possibilità di girare con tutto questo malloppone qui, e non dovete andare con la chiavettina piccolina. E, in più, una delle cose, secondo me, più belle che ci siano in questo coltellino svizzero per batteristi è questa. Questa è quella cosa che vi serve per inserire qua la farfalla delle aste, e poi andare a tirare o mollare. Quando andate nelle sale prove che ci sono quelle aste che sono tiratissime, e voi con le mani non riuscite, arrivate con questo, infilate l'asta qui in mezzo, tanto vanno bene qualsiasi tipo, praticamente qualsiasi tipo di asta, e poi fate forza e tac, la mollate e siete pronti ad utilizzare quest'asta. Questa è, appunto, una chiavetta con tutto dentro, super funzionale, portate questa e siete a posto. Ma andiamo avanti, volete fare un regalo che, per essere sicuri, che al batterista a cui fate il regalo vada bene? Allora, state sul classico, ma non troppo classico, nel senso, un pad che i batteristi tanto devono avere, devono utilizzare, ma questo nuovo pad di Tama da 9 pollici, che io impazzisco a vederlo, impazzisco a vederlo perché è rosso bordeaux, è bellissimo, io ho un pad molto simile della Tama, ma della serie vecchia, e vi assicuro che questa gommina qui, dei pad di Tama, è veramente molto carina. Dietro avete la possibilità anche, primo, di suonarci, volendo, perché è un po' più morbida, anche se in realtà questa cosa è l'antiscivolo, quindi lo appoggiate dove volete, e poi potete andare a suonare con la vostra bacchetta, su dov'è la bacchetta, ne prendo una di qui, tanto dopo ci sono anche le bacchette. Prendo questa bacchetta di Travis Barker, spoiler, per dopo, ma bellissimo. Questa gommina, ovviamente è una gommina abbastanza dura, quindi non è che deve andare a creare il rimbalzo di una pelle normale, ma è molto carina. E poi, raga, questo pad a me piace un sacco, cioè ve lo faccio rivedere, perché è tutto rosso intorno, e allora, già il pad è una cosa che molto spesso i batteristi non vogliono utilizzare perché si rompono le scatole a studiare sul pad, eccetera. Quindi, compriamone uno bello, anche da vedere, perché almeno ci viene un po' più voglia di suonare sul pad. Ragazzi, suonate sul pad, perché altrimenti non migliorate veramente la tecnica. E se volete qualche specifica in più sul pad, ho fatto un video sul pad, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Ci saranno un sacco di cose in descrizione oggi, ma così almeno avete tutto completo. Dato che... no, momento. Piccolo spot per far vedere una cosa non da batterista. Pazzesco, ma è forse il regalo che, anche se non è da batterista, a me piace più di tutti. Perché è questo, ragazzi. Questo qua sembra un amplificatore di Marshall, e lo è in realtà, ma non lo è, perché per prima cosa è molto piccolo. Quindi una chitarra con un amplificatore così piccolo, non so se potrebbe suonare, almeno, non lo so, poi magari un chitarrista potrebbe smentirmi. Ma questo, ragazzi, guardatelo qui, è un portachiavi. Questo è da attaccare al muro, e poi lo aprite, guardate qua, e all'interno, oltre ad avere i tasselli per andarlo ad attaccare al muro, avete i portachiavi jack. Ragazzi, questa a me è una cosa che ha stupito tantissimo. Cioè, voi avete il vostro portachiavi a muro di Marshall, gli attaccate le chiavi a questo jack qua, e poi, quando arrivate a casa, andate a metterle nell'amplificatore. Cioè, non so se sia un amplificatore, una cassa, una testa, che cos'è questa cosa qua, ma comunque è bellissimo. Voi avete quattro chiavi possibili, che potete andare a inserire nella testa, nell'amplificatore, in quello che è. E così voi avete tutte le vostre chiavi qui. Andate via, tirate via il jack, e uscite di casa. Questa cosa, a me è una roba che piace tantissimo. Cioè, non occupa spazio. È carina. Nel momento in cui è arrivata a casa, penso a me stesso, vedete questa cassa Marshall, dite, ah, cacchio, devo mettere le chiavi attaccate all'input del Marshall. E quindi non vi dimenticate dove sono le chiavi, eccetera. Sapete che sono qua, è perfetto. Io questo me lo tengo, questo qua, perché è veramente interessante. E stando ancora, più o meravigliato che vi ho fatto lo spoiler, stando ancora su cose abbastanza economiche, comunque economiche, medioeconomiche, voglio farvi vedere delle bacchette. Anche qua ve ne ho prese tre solo per farvi vedere la tipologia di bacchetta. Poi ce ne sono una marea su strumentimusicali.net, cioè le bacchette normali, ce ne sono tantissime, ma le bacchette signature, cioè le bacchette dei batteristi famosi. Ne ho prese tre. Allora, questa qua, che è molto carina e ha questo disegno molto interessante qua, sono le bacchette, tutte e due, di Dave Grohl. Mazza se pesano, per prima cosa, autografate da Dave Grohl. Sono veramente carine e più che altro gli fanno capire anche qual è un po' il suo modo di pensare e di suonare nel momento in cui prende le bacchette in mano, perché sono veramente belle e pesanti, la sensazione è molto strana. Ma questo è solo un esempio, perché abbiamo anche le bacchette di Steve Gadd, completamente diverse, molto più piccole, nere, autografate ovviamente da Steve Gadd, molto più leggere, ma anche queste con una stabilità della bacchetta molto particolare. Oppure volete fare i super punk? Allora ci sono le bacchette di Travis Barker. Ovviamente anche qua marchiate Travis Barker. Appunto, questi sono solo esempi di bacchette signature. Ce ne sono tantissime su strumentimusicali.net Vi lascio il link per andare a vederle tutte. Magari trovate il vostro batterista preferito, volete provarle sui bacchette, le avete, le prendete e vi fate il regalo di Natale. O fate il regalo di Natale delle bacchette del batterista preferito del vostro batterista, del vostro nipote batterista, del vostro amico batterista. Passiamo alle cose un po' più su come prezzo. Allora, detto che abbiamo parlato di bacchette, parliamo di portabacchette. Nel senso che io ho già fatto dei video su dei portabacchette in cui ho fatto vedere questo Tama, che è un portabacchette interessante perché non costa molto, è piccolino, ha queste due cosine qui, queste due, come si chiamano questi, elastici che possono essere attaccati tranquillamente al timpano. li attaccate e avete il vostro portabacchette qua, qui avete la possibilità di inserire direi 6-8 paia di bacchette. Dove sono le bacchette? Dove le lasciate laggiù? Voi andate a inserire le vostre bacchettuzze qua, sì direi che 4-8 paia, no, 6-8 paia di bacchette ci stanno, queste sono 3 paia, ce ne starebbe ancora una, e le avete tutte qui quelle che vi servono. È piccolino, a me piace perché è piccolino, ci stanno le bacchette che servono, e qui avete due tasche, una qua magari per mettergli il mungel, una per mettergli una chiavetta, ad esempio. Molto interessante questo portabacchette di Tama, poi soprattutto i portabacchette ai batteristi alla fine servono sempre. Se volete andare un pochettino più su di livello, avete questo qua, che allora come portabacchette e come grandezza è un po' più grande di quello di prima, ma è più curato. Raga, questa qui sembra tipo pelle, non so che sia veramente pelle, è un design molto figo e soprattutto nel momento in cui lo aprite, avete allora, con questi inserti arancioni, la marca è Groove Gear, qua avete la tracolla, avete anche qui il portabacchette con le bacchette singole, e magari questo sarebbe più che altro se volete mettere ad esempio dei mallet, oltre ai bacchetti, dico, delle spazzole, eccetera. Potete inserirle tutte qui, qua avete un sacco di taschine aggiuntive per mettergli quello che volete, anche qua, taschina un po' più grande nel momento in cui andate a togliere la tracolla. Qui cosa c'è? Ah no, è solo la protezione, protezione per le bacchette, qui potete mettergli quello che volete, appunto, mungel, chiavette, potete volendo qui anche andare a mettere la chiavetta, quello che vi dicevo prima, di Tama, il coltellino svizzero per batteristi, eccetera. Questa è molto interessante e soprattutto molto carina da vedere e super protettiva, perché ha tutte queste protezioni qua, che sono veramente molto 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 interessanti. Adesso andiamo ancora su, però, e vediamo, allora, ho già fatto un video su questo, mi sono trovato molto bene, l'ho comprato dopo aver fatto il video, il TuneBot. Non sto ad aprirvelo, ragazzi, perché se volete vederlo vi lascio comunque in descrizione il link al prodotto, esistono due tipologie di TuneBot, questo è quello un po' più costoso, secondo me è anche quello che va meglio, è sotto i 100 euro come costo e, ragazzi, questo è l'accordatore per batteria, secondo me, d'eccezione, cioè, d'eccezione si dice, per eccezione, vabbè, è l'accordatore giusto che un batterista deve comprare se vuole accorder bene la sua batteria, perché ha la possibilità di capire tutte le varie frequenze, eccetera, e vi mette le frequenze per ogni tirante nel modo giusto, vi permette di avere sempre la stessa accordatura della vostra batteria, in base alla grandezza, in base a che suono volete, più acuto, più grave, più risonanza, meno risonanza, eccetera, ha anche l'app che è gratuita, quindi ottimo regalo di Natale per un batterista. Poi, andando avanti, facciamo un'altra cosa che non è per batteristi, ma a me piace tanto, la cassa Bluetooth di Marshall, questa è una cassa Bluetooth, adesso ve la apro, che, vado a prendere il taglierino, questa è di nuovo molto carina, secondo me, è piccolina, non tiene spazio, ma la potenza ce n'ha un bel po', e, raga, è molto bella, è molto bella, con questo il tasto di accensione, potete anche andare a metterla, ad esempio, attaccata a un'asta, ad esempio, come volete, magari un'asta non del Charleston, perché è un po' piccolina, quella del Charleston, oppure potete anche tenerla in mano, volendo, in questo modo qua, potete farci un po' quello che volete, ma è molto, molto carina, guardate qua, che bella questa cassa di Marshall Bluetooth, più che bella, secondo me, è molto fine, cioè molto elegante, l'appoggiate lì, è un bel soprammobile e, intanto, se volete ascoltare la musica, la collegate e ascoltate la musica tranquillamente, molto carina, molto, molto, molto carina. Infine, un regalo che, se fate a un batterista, sicuramente sarà contento. Beh, sicuramente, dato che è qua, ve lo faccio vedere. Questo è Smug, è il magazine di strumentimusicali.net, in cui potete avere tutte le informazioni sui nuovi prodotti, un po' di articoli su vari prodotti di batteria, chitarra, tutti quanti gli strumenti, quindi, nel dubbio, questo potrebbe anche essere un buon regalo di Natale. Ta-da! Eccolo! Questo ve l'ho già fatto vedere, ma, eh, raga, a me piace troppo, quindi ve lo devo far di nuovo vedere e vi devo spiegare anche un po' alcune cose, cioè, l'orologio... No, no, aspetta, prima di dirvelo ve lo apro. L'orologio da parete di Zildian. Questo è molto bello. Questo è veramente molto, molto, molto carino. Voi lo appendete, qui avete il gancio, lo appendete e avete l'orologio fatto a piatto. Molti di voi potrebbero dirmi, eh, sì, però, cioè, devo comprare un piatto che fa da orologio? Eh, cioè, a sto punto mi compro un piatto che costa poco e poi mi faccio l'orologio. Allora, cosa numero uno? Ovviamente il prezzo non è il prezzo di un piatto di Zildian, di quelli super fighi, eccetera. Seconda cosa che vi voglio dire è che, è vero, anch'io dico, vorrei farmi un sacco di cose, eccetera, ma poi non le faccio mai perché devo mettermi lì, studiare, andermi a comprare un piatto economico, tagliarlo, fare, mettergli l'orologio, eccetera, non lo farò mai. E in realtà la spesa tra comprare un piatto, tra comprare la cosa dell'orologio, tra il tempo che ci mettete per mettergli l'orologio e tutto quanto, al di là di farlo o non farlo, non è così diversa. In tutto questo io preferisco avere un piatto orologio con scritto Zildian, non con scritta magari una marca di quelli che ho comprato chissà dove, eccetera, solo perché ho detto non volevo farmi questo regalo qua, volevo fare io, adesso non mi piace, eccetera. No, quello è già fatto, è un piatto bello spesso, che non patisce niente, c'è la scritta Zildian, eccetera. Quindi, secondo me, è un ottimo regalo. Adesso vi faccio ancora vedere alcune cose spostandomi al computer, così vi faccio vedere come trovare i regali e tutto quanto. Eccomi qua, sono al computer per spiegarvi come ho comprato tutti questi regalozzi di Natale o regalozzi in generale per i batteristi. Quindi, entrando su strumentimusicali.net, io ho la possibilità di andare direttamente, ad esempio, su batterie e ho tutto quello che voglio. Quindi, se voglio batterie acustiche, elettroniche, bacchette, accessori per i batteristi, microfoni, tutto quanto. Ad esempio, io voglio dei microfoni. Voglio spendere poco, voglio spendere poco, ma voglio tutti i microfoni possibili. Ad esempio, io posso scrivere kit, microfoni, batteria, ordinare per prezzo crescente e, ad esempio, io vado a vedere che qui ci sono i Behringer BC1200 che sono sette microfoni, due panoramici, uno per la cassa e quattro altri microfoni per tom, rullante, eccetera, che mi possono essere utili. Tra l'altro, anche lì, ho fatto un video, non proprio su questo set qua, su un set che costava un pochettino di più, di microfoni Behringer che vanno benissimo, perché alla fine Behringer costa poco, ma funziona sempre bene, soprattutto per l'home recording, eccetera. Lo trovate anche questo qui sotto in descrizione e, in pratica, qui sul sito, andate a cercare quello che vi serve, quello che volete regalare. Ad esempio, io voglio fare un regalo su borse per hardware. Quindi, borsa hardware, voglio spendere sui 50 euro, più o meno, quindi vado a cercarmi qualcosa che costi più o meno sui 50 euro, prezzo crescente anche qua. Trovo, eccola qua, Tama PBH02L Power Pad Hardware Bag. Questa è praticamente una borsa di Tama che non è una borsa rigida, è una borsa morbida, ma comunque funziona molto bene per gli hardware, tiene poco spazio, è un pochettino più allungata del solito e metto tutti gli hardware che voglio. E volevo spendere questa cifra qua, volevo questa tipologia di prodotto e quindi l'ho trovato molto semplicemente. Oppure, voglio cercare qualcosa che faccia fare così a chi lo riceve. Allora, guardate questo. Kaon cartone. Eccolo qua. Meinl Viva Rhythm Kaon Tugou. Questo praticamente sembra una stupidaggine, ma in realtà non lo è. È un Kaon in cartone che si può montare, poi qua avete tutte le varie fotografie perché vi fanno capire poi come si monta, eccetera, ma questo è un vero Kaon per bambini e per adulti. Quindi vi potete sedere sopra tranquillamente e suona da Kaon. Costa 21,90 euro e quindi fate un regalo particolare che non è il solito regalo e avete una cosa particolare, una cosa carina che sicuramente rimane in testa a chi lo riceve. Ragazzi, funziona veramente. L'ho visto usare. Funziona veramente. Non è una stupidaggine. Quindi, con questo, ragazzi, vi ho spiegato anche un pochettino sul sito come fare. Cercate, guardate quello che volete, cercate per prezzo, cercate per tipologia, eccetera, la potete cercare in qualsiasi modo. Io con questo la finisco qua. Voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato tutte queste cose e per darmi sempre la possibilità di fare i video che voglio, farvi vedere tutte le cose che voglio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il regalo più bello che avete visto in questo video oppure, secondo voi, qual è un altro regalo perfetto per i batteristi. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai prodotti che vi ho fatto vedere oggi, i link dei prodotti che vi ho fatto vedere anche sul sito. Mi raccomando, fate un giro sul sito, iscrivetevi al canale, andate a dare un'occhiata alla mia scuola online che la trovate sempre in descrizione. Oggi c'è un sacco di roba in descrizione. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!